Ma ci sono tante altre cose che poi sono venute fuori dal seme. Abbiamo salvato tutto, ho iniziato a salvare ogni sede che potrei venire, anche le sede di ciò che ho chiamato di freddo, freddo che non hanno iniziato di mangiare. I cibi dimenticati, quindi quelli che noi abbiamo smesso di mangiare. E sono tutti questi semi antichi che producono i cibi più appetitosi. Che cosa sarebbe la Toscana senza i suoi fagioli? No, 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 no. E la nutrizione che producono è molto più di quanto il riso e il rito che non potrebbero dare. E se parliamo ad esempio del riso, il riso è un, possiamo chiamarlo come, ah il miglio, scusate. Se parliamo del miglio, il miglio è un seme comunque che può produrne tanti altri, che può essere coltivato anche in condizioni estreme ed è molto più nutritivo del riso che possiamo mangiare noi ora. Quindi non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. E quindi noi non ci siamo solo limitati a proteggere i semi, ma dei cibi dimenticati, dei semi dimenticati. Noi abbiamo voluto reintrodurli nell'alimentazione anche con delle nuove ricette o anche portando queste ricette nelle nostre organiche che sono delle caffetterie biologiche anche nella cucina di quella che è la nostra università della Terra. E quindi noi non abbiamo iniziato questo percorso domandandoci che cosa avrebbe funzionato nel mercato, e quindi che cosa andava di per sé preservato. No, noi siamo partiti dal principio che il seme ha di per sé una sua intelligenza, che i nostri antenati avevano un'intelligenza e che quindi se questo seme ha un suo posto nel mondo, una sua evoluzione, noi dobbiamo proteggerlo. E quindi in l'area in Orissa, che è on la costa, on la Baye di Bengal, abbiamo salvato seeds che possono tollerare salt. Solt, orissa? Orissa, yes. Baye di Bengal. E quindi ad esempio se parliamo della zona dell'Orissa in India, dove noi abbiamo una banca dei semi, questa è una zona in cui spesso ci sono dei cicloni o comunque delle condizioni estreme dal punto di vista meteorologico e da quello anche i coltivatori e i semi si sono evoluti. We had saved these seeds, even though the government was promoting the so-called high-yielding varieties. And in 99, when a cyclone hit, farmers could rejuvenate the agriculture on the basis of the salt-tolerant seeds in the community seed banks. E quindi noi abbiamo comunque continuato a preservare questi semi, nonostante il governo ci diceva di andare verso una standardizzazione delle sementi. E poi quando nel 1999 c'è stato un fortissimo ciclone, in questo modo i coltivatori hanno potuto accedere a queste sementi per poter ringiovanire quelli che erano i loro raccolti e poter continuare a coltivare. nel 2004 potete ricordare il grande tsunami che ha toccato il bordo di Bengal e il governo della sud India, Tamil Nadu, ha detto che non possiamo fare la farmaccia, c'è troppo sale sulla terra. E pensate anche al 2004, quando c'è stato questo fortissimo tsunami, il governo in quel momento ha detto beh, non possiamo più coltivare, c'è troppo sale sulla terra. E quindi dopo che il governo aveva annunciato che non si poteva coltivare, Mandana comunque è andata a dire no, è possibile, perché noi abbiamo dei semi che tollerano il sale. e quindi ha portato più di due camion di questi semi e ha aiutato a ringiovanire di nuovo quelle che erano le sementi a permettere l'agricoltura. E in questi 30 anni abbiamo trovato che la diversità locale e il知識 locale sono in realtà il più effettivo nel produrre più e migliore cibo in ogni modo nel mondo. E quindi in questi 30 anni di attività quello che abbiamo scoperto è che la diversità locale è molto più efficiente e permette di produrre più cibo con una migliore qualità. We don't just help farmers save seeds and go organic. We actually work with them to analyze how much did they grow, what is the nutrition, what is the cost benefit. of their agriculture. And we measure nutrition per acre because food is supposed to be about nourishment. And if all of the agriculture of India was done on the basis of intensifying biodiversity intensifying ecological processes intensifying the knowledge of the farmers we can feed to India with all the nutrition. E noi misuriamo il nutrimento per ettaro e questo è quello che facciamo perché se noi intensifichiamo questo concetto di diversità se noi intensifichiamo questi processi ecologici se noi intensifichiamo quello che sono la conoscenza dei coltivatori noi potremmo tranquillamente nutrire l'intera India. We sat with our members to work out what they earned if they used local seed in their hands ecological methods and participated in a fair trade system where they fixed the prices compared to purchase seed chemical farming and a market driven by forces that are not under their control largely global forces. E noi abbiamo iniziato con quelli che sono i nostri membri e quindi abbiamo chiesto quanto guadagnavano utilizzando delle sementi locali utilizzando delle metodologie di coltivazione ecologica utilizzando un commercio ecco solidale in cui loro fissavano i prezzi al posto di comprare le sementi vivere in un mercato non governato da loro in un'economia di mercato guidata da delle grandi aziende utilizzando i pesticidi e comunque essere alla mercè di forze al di fuori del loro controllo. On an average it's ten times more. If they have their seeds and they use organic and have fair trade they earn ten times more than farmers chasing the market to try and earn more money. e quello che abbiamo calcolato è che in media è dieci volte tanto il loro guadagno è dieci volte tanto se loro utilizzano le sementi locali se utilizzano un'economia eco solidale se utilizzano metodologie ecologiche rispetto a rincorrere il mercato cercando di fare più denaro. E quindi se portiamo avanti questo nostro modo di fare agricoltura e di proteggere lo spirito della terra di per sé facciamo anche un bene all'umanità. Applausi